Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, rallentamenti per traffico tra BV1 Variante e Calenzano in direzione sud. La Firenze Mare 4 km di coda per traffico intenso sulla viabilità ordinaria tra Firenze Ovest e Firenze Peretola e code a tratti tra Pistoia, BV11 e A1. Tutto verso Firenze. Arriviamo in Fipili per interventi di miglioramento della sicurezza. Restano 2 km di coda verso Firenze tra Montelupo e Ginestra e rallentamenti in carreggiata opposta tra la Strassigna e Montelupo. Il cantiere chiuderà il 31 dicembre con un mese di anticipo rispetto al cronoprogramma. Restano validi percorsi alternativi sulla SP12 o per i tragitti più lunghi sull'autostrada 11. Sempre in Fipili per viabilità esterna che non riceve troviamo coda in uscita a Scandicci provenendo da Firenze. Per traffico verso il capoluogo rallentamenti tra la Strassigna e Firenze-Scandicci. A Firenze traffico sostenuto sulle principali direttrici in ingresso città. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!